L'immunoterapia non specifica ha lo scopo di potenziare il sistema immunitario in maniera generica, per indurlo a reagire più efficacemente contro le cellule tumorali. Per ottenere questo risultato si usano molecole che agiscono dai mediatori chimici. Alcune molecole stimolano gli effettori della risposta immunitaria contro il tumore. Ad esempio sono impiegate molecole come l'interlochina 2 o l'interferone alfa che stimolano l'azione dei linfociti T citotossici. La stimolazione potenzia il riconoscimento e l'eliminazione diretta delle cellule tumorali. Oppure vengono utilizzate molecole come i ligandi per TLR o CD40 che, legandosi a specifici recettori di membrana, attivano le cellule presentanti l'antigene. Una volta attivate, le APCI inglobano le cellule tumorali, processano ed espongono gli antigeni. In questo modo stimolano i linfociti B a produrre specifici anticorpi e attivano i linfociti T helper che inducono i macrofagi a fogocitare le cellule tumorali. Questa strategia è attualmente utilizzata per il trattamento di diversi tipi di tumore come il melanoma, il carcinoma delle cellule renali e il tumore alla vescica. Spesso è utilizzata per brevi periodi perché la somministrazione prolungata può risultare citotossica. Un altro tipo di molecole inibisce l'azione dei regolatori della risposta immunitaria. Si tratta di alcuni chemioterapici che bloccano l'azione dei linfociti T regolatori e di conseguenza dei mediatori chimici da loro prodotti. Il ruolo dei linfociti T regolatori è di spegnere la risposta dei linfociti T citotossici e dei linfociti B. Inibire i linfociti T regolatori significa rimuovere quindi questo blocco potenziando i linfociti T citotossici e i linfociti B. Questo approccio è impiegato nel trattamento del tumore metastatico alla prostata e del melanoma. I principali limiti di applicabilità consistono nella bassa specificità e di conseguenza nella possibile citotossicità. L'immunoterapia non specifica è un approccio molto utile per il trattamento di diversi tumori e viene spesso utilizzata in combinazione ad altre terapie. Grazie a tutti.